E ora mi chiamo Elena. Martin, Edna. C'è? La sua. Ho deciso che voglio essere come voi. Parlare come voi, pensare come voi. Ossè, ma come va facendo? La sua stessa. Ho riflettuto molto su me stesso. E ho sentito come uno spirito creatore che mi divampava dentro, che mi incitava. A fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede. Insomma, voglio fare lo scrittore. Qual la gente viene a lavorare? Ti stai affaticando troppo? Fassi rotto mio. Questi libri non hai mani, che hanno? Ma almeno non sai che parte solo apri una libra. Io non l'ho mai amata. Allora parliamo insieme. Ci sono amicizie importanti. Una bella raccomandazione. Non è che a Magnavelene mi sento affaticare con te. No, ma quando scrivi sei troppo crudo. Tu vorresti che io togliessi tutte le cose brutte che scrivo? Che tessi una speranza? Quanti ne vedi morire di fame? Finire in galera? Perché sono dei poveretti, schiavi, ignoranti e stupidi. Lotta per loro, Martin. Quello che scrivi non si venderà mai. E noi non ci sposeremo mai e non saremo mai una famiglia. Ma io non dovrei vergognarvi raccontare tutto questo. Ah, signorina, e non è proprio te. Noi potremmo essere felici insieme. Noi non ce lo saremo, Martin. Noi potremmo essere felici insieme.